Questi gli appuntamenti per oggi. Prima di lasciarvi vi ricordo che fino al 30 di giugno c'è tempo per presentare domanda per il servizio civile nelle pubbliche assistenze ANPAS. Sono 296 i posti in Piemonte finanziati tra gli altri i progetti Pronto 118, Cittadinanza e Solidarietà, Un Trasporto per Te. Sì, possono candidarsi tutti i ragazzi e tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni ancora non compiuti entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno. I settori di attività sono i servizi di emergenza 118, trasporto socio-sanitario di tipo ordinario come servizi di accompagnamento per visite, terapie e dialisi. La durata del servizio è di 12 mesi, 30 ore settimanali ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.